oggi preparo alici con patate prezzemolo aglio olio e pepe iniziamo ho fatto le patate sottilissime l'ho messo in acqua così hanno perso tutto l'amido e mo li metto ad asciugare nel tovagliolo gli asciugiamo bene bene e poi mettiamo sale pepe e olio e con le mani li amalgamiamo iniziamo a fare un letto di patate nella pilota l'alice l'ho pulita e li ho messi un po' nel vino bianco adesso li adagio sulle patate naturalmente gli ho torto pure la lisca prima di metterli nel vino bianco adesso mi preparo il sito di prezzemolo rosmarino e aglio non è un po' nel vino bianco 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 non è un po' nel vino bianco